Buongiorno, buongiorno e buon martedì 30 aprile. Sta finendo il mese di aprile. Domani stileremo un bilancio di questo mese, di questo quarto mese dell'anno. Un bilancio certamente non soddisfacente, direi negativo. Il Milan non riesce a vincere il derby, un risultato, una partita alla quale tenevamo tutti molto il derby, ma soprattutto tenevamo di più, certamente, al quarto di finale contro la Roma, ma non è andata bene neanche lì. La Roma ha eliminato il Milan, la Roma giocherà proprio questa settimana contro il Bayern Leverkusen, saremmo stati a San Siro giovedì? Invece no. Invece no, dico, ma giovedì sarò allo stadio. Sono qui in Francia, andrò a Marsiglia per vedere Marsiglia-Atalanta. Semifinale, l'altra semifinale di Europa League. Si annuncia un grande spettacolo, grande spettacolo di pubblico, grande emozione. Gioca l'Atalanta che notoriamente gioca un bel calcio e quindi una bella partita andrò a Marsiglia proprio per vedere questa bella sfida. Ma, cari amiche e cari amici, vi invito sempre a iscrivervi al mio canale YouTube, ad attivare la campanella, mettere i vostri like ai video e non dimenticate mai di scaricare il link in descrizione. Ricordo, oggi è vero, è martedì 30 aprile. Ieri, sembra così vicino ieri, è già storia. Domani, non si sa, è ancora un mistero, ma oggi godiamoci questo martedì 30 aprile. Cominciamo subito con notizie di campo non piacevoli, non piacevoli, riguardano Menian e riguardano Loftus Cic. Tutte e due un problema, una lesione di basso grado. Uno, parliamo di Loftus Cic all'adduttore, scusate al bicipite femorale, l'altro Menian all'adduttore. Menian e Loftus verranno rivisitati, ricontrollati fra una settimana. C'è il rischio che perdono almeno due o tre partite. Menian magari anche quattro perché probabilmente deve prepararsi bene per l'europeo. Le partite del Milan sono partite abbastanza, sono sempre importanti. Milan vuole raggiungere un buon risultato, cercare di superare gli 80 punti, cercando di vincerle tutte. Però indubbiamente è secondo in classifica, rimarrà secondo in classifica, salvo cataclismi inaspettati e quindi Menian può curarsi bene. A proposito, Live Rosso Nero, se cito anche la fonte, nota che se dovesse perdere quattro partite, Menian in questi tre anni di Milan avrebbe perso 40 partite, ne perdesse due, magari 38 partite. Praticamente Menian di questi tre anni un campionato non l'ha giocato, purtroppo, perché è costellato dal grave infortunio, da un altro infortunio, da qualche acciacchino muscolare. Ebbene il Milan in questi tre anni comunque è riuscito a vincere uno scudetto, ad arrivare in semifinale di Champions, arrivare secondo in campionato senza uno dei più grandi portieri del mondo, senza uno oggi dei più forti portieri del mondo. Quindi ancora spazio all'eccellente Sportiello, bell'acquisto quello dell'anno scorso, un portiere di totale affidamento, un portiere forse fra i migliori secondi portieri del campionato italiano. E al posto di Menian dunque Sportiello non ci sarà l'Oftusci che vediamo contro il Genoa se tornerà Pioli alla formula Cukweze-Pulisic-Leao-Giru che ci ha tanto divertito e che è una formula così portata all'attacco, una bella formula propositiva contro un Genoa che vorrà onorare l'impegno, ha vinto ieri sera contro il Cagliari, quindi è già forse non aritmeticamente salvo, però praticamente corona un bel campionato e siamo contenti di salutare tutti Aladino Gilardino che torna a San Siro da allenatore e sarà per lui ma anche per noi un'emozione visto che Aladino Gilardino è autore di tanti gol nel Milan, ma uno in particolare nella partita perfetta del maggio del 2007, qualche settimana prima di vincere la settima Coppa dei Campioni. Ma andiamo a quello che più ci interessa. Vi avevo già detto fin dal video di lunedì mattina, credo di sì, che c'era una profonda riflessione a casa Milan per quello che riguarda Lopeteghi. Ieri vi avevo detto attenzione, scende la possibilità di Lopeteghi e la Gazzetta che dopo due giorni, seguendo le sue attente fonti probabilmente legate alla fonte dell'entourage spagnolo e continuava appunto, è stata lei che ha portato avanti il discorso di Lopeteghi, però oggi proprio la stessa Gazzetta parla di frenata per quello che riguarda Lopeteghi. Quindi a conferma delle mie sensazioni, quando vi avevo detto, attenzione, stanno scendendo le azioni, le quotazioni, la candidatura di Lopeteghi. La causa probabilmente è stata sicuramente la, diciamo, la sollevazione del popolo rossonero con petizioni, con commenti, con tutti i mezzi civili possibili, ma soprattutto quel a proposito di civiltà, quel civilissimo, madurissimo, ma appassionatissimo e affettuosissimo, se vogliamo, comunicato del Milan, il Milan dei tifosi del Milan, scusate, il comunicato dei tifosi della curva del Milan. La curva del Milan che ha sottolineato quanto sia importante in questo momento, dove l'Inter sta festeggiando lo scudetto della stella, avere un moto di orgoglio da parte del Milan, dei suoi dirigenti, per cercare di opporre al prossimo anno, alla forza dell'Inter, una squadra guidata, nel caso che venga mandato via Pioli, come sembra ormai assodato, un allenatore di grande livello. Non che Lopeteghi sia un allenatore scarso, però il Milan, i tifosi del Milan, pretendono qualche cosa in più. Un allenatore dalla scossa, un allenatore che possa regalare delle prospettive importanti per la prossima stagione. C'è da dire che se ci fermiamo a quell'allenatore che il Milan continua a tenere lontano, probabilmente dai suoi obiettivi, cioè Antonio Conte, dobbiamo capire quale possa essere, visto che non dovrebbe essere neanche Tiago Motta. La Gazzetta parla di frenata di Lopeteghi, che quindi non dovrebbe essere l'allenatore del Milan il prossimo anno. Qualcuno già obietta, ma come una società si fa condizionare da un comunicato dei tifosi. Allora dobbiamo dire che questa è un'opinione, è un'opinione legittima. Diciamo anche che, mettiamo l'altra parte, cioè che il Milan ha sempre considerato, anche nelle parole di Giorgio Furlani, molto importanti i suoi tifosi. Anche è uno dei grandi aspetti di questo Milan. E quindi, appunto, per questo motivo si è tenuto in considerazione quello che dice una parte, un aspetto importante, una parte importante di questo Milan. Quindi, da una parte, dicevo, sì, i tifosi non devono condizionare così tanto, dice qualcuno. Dall'altra, invece, il Milan dice, teniamo conto dell'orgoglio, della volontà, dell'ambizione dei tifosi rossoneri. Ma quello che conta è adesso, care amiche e cari amici, e adesso? E adesso che la Gazzetta parla di sei allenatori, io non sto a far l'elenco, immagino che nei sei allenatori ci sia Van Bommel, ci sia Fonseca, che mi dicono bravo allenatore. Non credo, e non voglio deludere nessuno, che ci sia Conte, magari ci chiederemo se qualcosa sia cambiato. Ci chiedo sempre, tutti i giorni, se qualcosa sia cambiato su Conte, ma fino adesso mi hanno detto di no. Potrebbe esserci De Zerbi. Spero che ci sia il mio Amorim, l'allenatore molto bravo, che quando mi dite ma chi è, è un problema vostro, perché lo sa bene chi è Amorim, il Liverpool che l'ha contattato, per poi andare sull'allenatore del Feyenoord, il West Ham che l'ha contattato, e il Chelsea che probabilmente lo vorrebbe. Quindi non è un signor nessuno se lo cercano questi club. Però vi lascio questo minuto e mezzo di Luca Diddi che vi parla di Amorim e ci dice anche perché il Milan forse avrebbe scelto Lopeteghi e perché magari Amorim è un allenatore che potrebbe essere condizionante per il futuro del Milan proprio per le sue idee e per il suo modo di giocare. Sentiamo Luca Diddi che è stato ospite. Invece di parlare a livello di tattica di Juventus-Milan, che c'era poco da dire, cercheremo di esaminare gli allenatori candidati per la panchina del Milan, i pro e i contro. Sentite Luca Diddi su Amorim. Se te non vuoi stravolgere tanto la rosa, cioè i giocatori a oggi dice io mi prendo l'attaccante e devo trovare un allenatore che gioca col modulo similare a quello che è quello di Pioli, cambiando le idee. Ecco, Amorim sarebbe un po' complicato trovare... Ma è anche questo che mi interessa. Lo diciamo. Sarebbe un po' complicato perché l'ho visto, il Leao non si sposerebbe bene. Cioè, mentre ti fa un esempio, Lopeteghi gioca 4-3-3 con le due mezzali molto dinamiche, molto di inserimento che potrebbero essere Reinders e Loftucic. Con Leao a sinistra, Pulisic a destra e una punta centrale. Quattro difensori, quindi non stravolgerebbe niente. La rosa sarebbe potenziata con un attaccante, magari con un centrocampista, con un play, con un difensore, ma fondamentalmente rimarebbe gli stessi principi di gioco. Amorim è un innovativo. È uno che ovviamente propone e quindi... A me piacciono gli innovativi. È un calcio nuovo. Dovresti praticamente, ti fa un esempio, vendere qualcuno, prendergli dei giocatori adatti a questo modulo qui. È sicuramente un giocatore, è un allenatore che ti fa divertire perché io quando ho visto le partite mi sono divertito. È un allenatore aggressivo, è un allenatore che comunque ha equilibrio. Queste le parole dunque di Luca Diddi su Amorim. Con questo io chiudo. Nel corso della giornata cercheremo di approfondire quale possa essere veramente l'allenatore del Milan, visto che la frenata di Lopeteghi ormai è, diciamo, scontata. Se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like, iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pelle Gatti, attivate la campanella e scaricate il link in descrizione. Mi raccomando, se andate c'è una bella sorpresa. Grazie a tutti.